Grafic Novel è una mostra organizzata dal nostro supplemento, dalla lettura, ed è una mostra che raccoglie quasi 100 lavori fatti dai nostri artisti che realizzano Grafic Novel. Che particolarità hanno? La loro particolarità è quella di trattare, raccontare dei momenti della nostra vita attraverso l'immagine e le parole, quindi in una forma di giornalismo culturale che fa dell'immagine il suo punto di forza. Io penso che una mostra di questo tipo insegni che l'utilizzo dell'immagine, così come l'utilizzo della parola, sono uno strumento giornalistico straordinario. Riuscire a farlo con la sintesi di questi artisti, che alle immagini uniscono con sapienza le parole, è un modello di giornalismo attualissimo e contemporaneo.